ma non ce la faccio più no quante storie mamma mia o ma che te stai a lamentare c'è io con tutti i tacchi sono venuta qui su bella argilla a te c'è ma come state messi quei giovani non c'avete più voglia di soffrire sacri fisico c'è ma anche i contenuti voi fa mammina monte lamenta troppo e portato qualcosa da mangiare si ho portato qualcosa aspetta tieni a mammina avevi detto che facevamo il picnic sì vabbè il picnic non mi dovevo rovinare l'unghia per cucinarti non ho capito e me li hanno dati su trenitalia sti croccantini con tutto quello che costa il biglietto lo lasciavo lì ma che scherzi che poi sto aspettando a uno che ci devo fare un contenuto pure qui mezza natura ma non arriva brucia si ma per una volta che stiamo insieme ci possiamo godere la natura una volta si vabbè a natura questa pensa ancora natura ma pensa a fisordi business che perché se fai dei quattro foglie verdi no capito senti fammi qualche foto va per favore dai ma non mi va per favore sì non te lamenta ti ho detto fammi qualche foto dai c'è gente non mi perfugno fammela qua sulla panchina aspetta che sto a cadere buongiorno scusi ai contenuti sono importanti fammela più giù va bene basta sì però poi ti piace quando guadagni sordina bambina